Il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche è un dipartimento quasi interamente basato sulla ricerca scientifica biomedica. Molti ricercatori del Dipartimento hanno conseguito importantissimi risultati nel campo dello studio di meccanismi biologici, molecolari, patogenetici di molte malattie. Il Dipartimento ha rinnovato il parco di infrastrutture dotandosi anche di apparecchiature di ultima generazione sofisticate che hanno reso i ricercatori del Dipartimento competitivi a livello internazionale. Questo ci ha consentito di creare una facility di NGS, una di microscopia, citofluorimetria, lo stabulario. Questa dotazione è fondamentale sia per supportare i progetti ricerca in corso e quelli futuri ma soprattutto per la formazione di tutti i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, gli studenti che fanno capo al Dipartimento.